Le opere di laminazione del fiume Olona, che interessa i comuni di Parabiago, Canegrate e San Vittorio Olona. Le opere sono state consegnate venerdì scorso e avranno una durata di circa un anno. Il progetto prevede l'invaso complessivo di circa 750 mila metri pubi, suddiviso in due settori, questo di Valle, questo siamo in comune di Parabiago e questo di Monte, con l'opera di presa in questa posizione. L'allagamento delle aree avverrà principalmente più frequentemente nella vasca di Valle e meno frequentemente solo per eventi eccezionali nella vasca di Monte. La vasca di Valle sarebbe? Siamo in questa posizione. L'ingresso del cantiere è nell'angolo vicino agli alberi, è nel ponte. E questo è il primo invaso, essenzialmente. Oltre alle opere di laminazione sono previste delle opere di compensazione che saranno realizzate dal consorzio del fiume Olona e sono delle aree golenali dove sarà sempre consentita l'espansione naturale del corso d'acqua e ci saranno delle sistemazioni ambientali fruibili anche dal pubblico. Durante l'esecuzione dei lavori sarà sempre garantito il passaggio dell'Olona Greenway che in questo momento passa qui e poi entra all'interno dell'area di laminazione e invece il tracciato sarà sostanzialmente consentito lungo l'Olona ma sempre garantito anche durante l'esecuzione dei lavori. Grazie. Grazie.